Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savino Tesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Gioia Incontenibile. Spero dopo la spedirete a tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Gioia Incontenibile perché c'è tanto fermante lavoro per realizzare un'opera che vale appeso d'oro e ostenta bontà di vita. Tanto lavoro per cercare un sogno che è nell'aria, per vivere e sperare nella realizzazione chiara. Quindi la gioia incontenibile sgorga in noi quando c'è qualcosa di attraente e forte da realizzare, qualche sogno che si sta avverando, qualcosa che aspettavamo da tempo e si è avverata nella massima bellezza e nel suo incanto forte. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Gioia Incontenibile. Tanto fermento e lavoro per realizzare un'opera che vale appeso d'oro e ostenta bontà di vita. Tanto lavoro per cercare un sogno che è nell'aria, per vivere e sperare nella realizzazione chiara. E poi quando arriva il momento della realizzazione del sogno, esplode la gioia ed il fermento, arriva l'euforia e al massimo orgoglio. Gioia Incontenibile, frutto di lavoro fervido e continuo, che dona poi immenso riscontro e offre la realizzazione del progetto. Grazie e spero la condividete a tutti su Whatsapp. Arrivederci.